Allora Moreno Torricelli, stavo dicendo a Ravanelli i ragazzacci di una volta siete rimasti tali, cioè voglio dire lo spirito c'è sempre, la solidarietà c'è tra di voi ma una grande società è quella che rimane insomma? Assolutamente sì, è una famiglia che ha dettato la storia che ha fatto il DNA di questa società lo stanno portando avanti con grande passione lo si è visto stasera, è sempre bello ritrovarli rivestire questi colori perché almeno a me mi ha fatto diventare uomo, mi ha fatto diventare importante l'affetto che ho nei confronti della famiglia Agnelli La Juve, ti chiedo solo questo, cosa può fare visto che non fa le coppe? Ha un certo vantaggio ce l'ha anche se questa non è una firma autenticata che debba vincere, questo mi pare ovvio Chiaro che non giocando le coppe più tempo potrebbe preparare le partite secondo me deve crescere ancora un pochettino però insomma può far bene, può far molto bene grazie, grazie, grazie mille